Nel panorama fotografico odierno credo che ci siamo un po' tutti abituati al tramonto definitivo dei dispositivi dedicati. Non esistono più le fotocamere pure, così come non esistono più le videocamere pure. È tutto un po' ibrido, per cui non abbiamo più una componente che fa una cosa soltanto, ma abbiamo le mirrorless, che sostanzialmente si prendono cura di entrambi gli aspetti, devo dire la maggior parte delle volte anche parecchio bene. Rimane però il fatto che se non sei specializzato in niente difficilmente vai a soddisfare chi vuole esattamente quella cosa specifica. Ed ecco che spinto da questo pensiero sono andato a riscoprire cose che avevo dimenticato, come per esempio dell'esistenza di un marchio che si chiama Fuji, che realizza delle fotocamere meravigliose e oggi vi vado a parlare della bellissima Fuji X-T5. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e non ho per le mani una Fuji X-T5, e quindi questa non sarà una recensione, sarà piuttosto una chiacchierata su quelle che sono le mie impressioni su questa macchina. Prima di cominciare vi ricordo che sono un utente soddisfatto con Canon da diversi anni, per cui il fatto di stare esplorando e di stare cercando di scoprire dei corpi macchina diversi è una testimonianza di come la continua ricerca sia un po' la molla che tiene vivo il fuoco della fotografia. Per questo motivo vi consiglio di iscrivervi subito al mio canale così tenete accesa anche voi questa fiaccola e continuate a scoprire cose nuove che vi portano a mantenere attiva la vostra ispirazione e a non perdere mai la voglia di scattare belle fotografie. Cominciamo con qualche dato. Giusto per farvi capire si tratta di un sensore APS-C stacked retroilluminato da 40 megapixel che per un sensore APS-C, lo ammetto, sono tantissimi, probabilmente sono troppi. La macchina inoltre consente di scattare fino a 160 megapixel in pixel shift, quindi fondamentalmente è una funzione che scatta diverse immagini per andare a coprire un'area più ampia, dopodiché queste immagini vengono unite per creare una panoramica che misurerà 160 megapixel, una funzione che personalmente non mi interessa ma come tutte le funzioni è bello sapere che c'è, perché oggi non mi interessa, un giorno potrebbe servirmi. Ovviamente su una macchina di questo tipo, sensore piccolo, tantissimi megapixel, la gamma dinamica non è proprio il suo forte, anche se va detto che la tecnologia fa passi in avanti, per cui questo non è un sensore che ci potevamo aspettare dieci anni fa, anche solo cinque o due anni fa la resa era molto peggiore. Adesso, devo dire che dai campioni, dai sample che ho visto, questa fotocamera se la cava, anche per quanto riguarda la gamma dinamica, non è strepitosa. Ci sono fotocamere che puntano sulla gamma dinamica che lavorano meglio da quel punto di vista, quindi questa non è una macchina che punta sulla gamma dinamica. Ma, pur non essendo una macchina che fa della gamma dinamica il suo punto di forza, è comunque dignitosa. Una cosa che va detta, per cui molti potrebbero storcere il naso, è che il sistema di messa a fuoco di Fuji su questo corpo è stato molto migliorato, quindi rispetto a quanto siamo abituati a vedere in passato, qui abbiamo un sistema di messa a fuoco che è finalmente al passo coi tempi, e quindi abbiamo anche tutta una serie di opzioni avanzate, tra cui sulla scia dei vari brand leader di mercato. Anche qui è stato introdotto un autofocus preciso che ci permette di tracciare l'occhio della persona, il mezzo, la moto, la macchina, l'animale, il quadrupe del mammifero, l'uccello. Quindi ci sono diverse opzioni di messa a fuoco che vanno a coprire tutte le casistiche. In questo modo si riesce a essere molto precisi anche su una macchina di questo tipo. Si tratta di una fotocamera che viene pensata per fotografia, è evidente dalla concezione, dal design, è stata pensata per la fotografia. Per esempio il monitor non è pienamente articolabile, quindi può essere utilizzato solamente con un operatore che sta dietro alla fotocamera. Non è possibile realizzare un video in modalità selfie, come sto facendo io adesso con la Canon EOS R7. Io in questo caso ho girato il monitor e quindi mi vedo sul monitor della mia camera. Sulla X-T5 questo non è possibile, è una macchina che è pensata per essere tenuta in mano e quindi principalmente per fare foto piuttosto che video. Un'altra conferma ci viene dal fatto che è sì presente l'input per il microfono, ma non è presente l'output per le cuffie, quindi non si può fare monitoraggio durante la ripresa video. Il che ci fa capire, queste due cose insieme ci fanno proprio capire che non è una macchina pensata per il videomaker. Ciò nonostante ci mette a disposizione delle feature molto interessanti perché comunque ormai quando fai uscire un prodotto non può non essere ibrido. Inserire quelle caratteristiche al produttore costa praticamente zero e quindi su questa macchina abbiamo il 4K a 50 frame al secondo, abbiamo il 6K e abbiamo una cosa molto interessante che poi è quella che sto usando anch'io in questo momento perché diversi brand lo fanno, ovvero abbiamo il 4K ricco, il 4K che è ricavato in oversampling dal 6K, quindi è un formato 4K però viene ripreso fondamentalmente in 6K e poi ridotto e quindi ha una quantità di dettaglio maggiore perché viene da una sorgente migliore. E ora veniamo alle cose che mi fanno veramente cascare la mandibola per quanto riguarda questa macchina. Abbiamo l'F-Log 2, quindi il formato Log di Fuji. Ci sono delle differenze tra i vari brand, quindi io sto usando quello di Canon, quello di Fuji sarà diverso, quello di Sony è diverso ancora, però il concetto è sempre lo stesso. È un formato che ci permette di espandere la gamma dinamica per avere più agio in fase di post-produzione e di color grading una volta che abbiamo il nostro filmato importato dentro nel nostro programma di post-produzione. Ho già un video fuori proprio su questo argomento, ve lo lascio linkato in descrizione e andatevelo a recuperare. Quindi abbiamo il Log, abbiamo la possibilità di registrare in 10 bit 422 internamente, abbiamo la possibilità di scegliere se vogliamo registrare in H.264 o in H.265. Vi supplico, i vari, soprattutto Canon, mettete quest'opzione, dateci la possibilità di scegliere se vogliamo l'H.264 o l'H.265, non vi costa niente, vi prego, mettete un selettore, non vi costa niente. Per cui tornando a bomba sulla X-T5, fondamentalmente si tratta di una fotocamera, non è pensata per video, però il comparto video in realtà spacca di brutto. Venendo al corpo macchina, e questa è la cosa che mi è piaciuta e che mi ha spinto ad approfondire, il corpo macchina, ragazzi, è bello, è maledettamente bello, ha un design spettacolare, ha una costruzione molto robusta che mi è piaciuta tantissimo, viene in, se ho capito bene, due colori, perché c'è la versione Total Black e c'è la versione Vintage con le parti in metallo che a me piace tantissimo, perché mi ricorda la Nikon che usavo tantissimi anni fa, quindi veramente bella, bella. Si tratta di una fotocamera piccola. Questa è una cosa che a me non piace, perché io ho le mani abbastanza grandi, le mie mani sono medio grandi, non sono enormi, però, insomma, a me piacciono le macchine grosse, a me piace la 5D, per dire, la 5D di Canon, oppure la D700 di Nikon, insomma, a me piacciono quelle dimensioni lì, la voglio grossa. Questa è una macchina piccola e la filosofia di Fuji, comunque, è di cercare di miniaturizzare il più possibile, di avere tutto in un comparto abbastanza piccolo, quindi anche per quanto riguarda le ottiche, le ottiche Fuji sono piccole. Questa è una cosa che a me può non fare impazzire, però è un vantaggio, perché a questo punto non andiamo in giro con una macchina grossa perché dobbiamo impressionare il cliente o chissà che cosa, andiamo in giro con una macchina piccola perché a quel punto diventa la nostra macchina da viaggio, la nostra macchina da relax, da secondo lavoro, insomma diventa un qualcosa di più piccolo che ci possiamo portare indietro e che ha una grandissima potenza di fuoco ma che occupa pochissimo spazio, quindi con poco, per quanto riguarda lo spazio e il peso perché poi costa, con poco riusciamo a portarci a casa dei risultati fantastici. Vi devo dire anche qualcosa che non mi piace, vi parlo del menu, il menu a me non piace, ho visto dei test, ho visto delle dimostrazioni, il menu di Fuji a me non piace perché sono abituato al menu di Canon e Canon è il menu più bello di tutti quindi c'è poco da fare, io venendo dal meglio, questo non l'ho trovato fantastico però è una questione di interfaccia, è una questione di colore, è una questione di percezione, il menu di Fuji non è bello però si riesce a fare tutto, è molto semplice, intuitivo, le voci non sono troppe, non è dispersivo, non è bello da vedere ma le cose si riescono a fare benissimo, quindi è un problema semplicemente di primo impatto perché poi una volta che ci stai lavorando le cose riesci a farle benissimo. E veniamo ora a una cosa che sta a metà, che non vi so dire se mi piace oppure no. Fuji è famosa per le sue simulazioni di pellicola, quindi nel momento in cui noi andiamo a scattare possiamo scegliere una simulazione di pellicola e andremo automaticamente ad applicare un look alle nostre foto, quindi possiamo scegliere tra diversi preset, ci sarà quello vintage, ci sarà il bianco e nero, ci sarà quello più saturato, quello meno saturato, quello con più dettaglio, quello con meno dettaglio, quello con l'effetto Horner, insomma ci saranno diversi preset che non ho esplorato perché tendenzialmente queste cose a me piace farle in post, per questo vi dico che non sono sicuro che mi piaccia o no come feature, tendenzialmente queste cose le faccio in post perché mi piace avere controllo. Vero è che se esiste un sistema per impostare un look già in camera e trovo un look che mi piace e voglio utilizzarlo per un determinato cliente o per un determinato momento, magari che ne so, per le vacanze, decido che per quella vacanza voglio usare quel look per tutte quante le immagini, piuttosto che per un cliente, mi metto d'accordo con un cliente, troviamo un look che piace a quel cliente e quindi usiamo sempre quel look solo per quel cliente. A quel punto sarebbe tutto lavoro risparmiato per me perché avremo già una foto con già applicato un look, quindi potrei andare a fare delle migliorie, ma avremo già il look finale già applicato per l'80%, quindi potrebbe essere una bella comodità. Inoltre se non siamo professionisti ma se vogliamo semplicemente sperimentare è divertente provare delle simulazioni di pellicola ed è bello tornare ad avere quel look che appunto richiamando la pellicola ci rimanda a delle sensazioni che non siamo più abituati a provare perché col digitale molte cose sono andate perse, quindi quel look proprio da pellicola è bello averlo ed è bello riuscire a vederlo subito a display dopo aver scattato senza doverlo processare, quindi col risultato che si arriva a un punto in cui si dice va bene, sembra pellicola però è finto perché l'ho messo io. Così invece tu hai la sensazione che quel look sia vero perché l'hai già impostato in macchina. Ma ho tenuto per ultima la cosa che mi piace in assoluto di più di questa macchina. Le ghiere. Ragazzi, le stramaledettissime ghiere. La Fuji X-T5, così come tantissimi modelli della Fuji, ho visto anche la X-T4, la maggior parte dei modelli hanno ancora tutte le stramaledette ghiere fisiche. È una roba che a me fa impazzire questa. Ghiera degli ISO, ghiera dei tempi, ghiera dei diaframmi, tutto mappabile tramite delle ghiere poste sul top della camera. Meraviglioso. In questa maniera, e questa è la cosa che a me piace di più in assoluto, ho quel feeling di meccanico. Anche se poi la macchina è digitale, ho quel feeling di meccanico che è come su un orologio. Io posso mettere un orologio al quarzo, però mi piacerebbe che mi desse la stessa sensazione di un orologio vero, cosa che ovviamente non succede perché l'orologio al quarzo lavora in un certo modo ed è completamente diverso, non ha gli ingranaggi dentro. Con quel tipo di macchina fotografica io ho l'illusione che sia una macchina meccanica, anche se poi non lo è, però l'illusione funziona molto di più perché è tutto il body che me lo conferma, tutto l'aspetto della macchina che me lo conferma e non solo qualche dettaglio. Una cosa che trovo veramente impagabile è sapere come è impostata la mia macchina anche senza doverla accendere. Cioè io la guardo, magari ce l'ho al collo, è in stand-by, non devo prenderla e guardarci dentro accendendola per capire come l'avevo impostata per gli scatti precedenti e quindi rendermi conto se va bene anche per la scena che ho davanti. Lo vedo anche senza toccarla come è impostata perché vedo la ghiera degli ISO, vedo la rotella dei diaframmi, vedo la rotella dei tempi e quindi posso fare tutto, posso fare tutto quanto senza bisogno di accenderla. Posso veramente gestirla come gestirei una macchina fotografica di quelle di una volta. È una sensazione bellissima e il motivo per cui vi porto questo video chiacchierata alla fine perché non ho provato la macchina è proprio che questa cosa mi manca. Mi manca sentire il rumore di una ghiera meccanica che viene girata, mi manca sentire tic 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 mentre sistemo le mie cose prima di scattare la fotografia. È una cosa che mi manca ed è una cosa per cui secondo me Fuji sta andando nella direzione giusta perché lasciare queste ghiere, lasciare a chi sta scattando il piacere meccanico di quello che sta facendo è una cosa che tutti i vari brand, leader di mercato tra cui purtroppo anche Canon che a me piace tantissimo hanno completamente perso. Stanno pensando solamente al risultato, stanno pensando solamente alla fine, al punto d'arrivo dimenticandosi che spesso e volentieri è molto più importante il viaggio piuttosto che il momento in cui arrivi. Non voglio dilungarmi oltre con questo contenuto che vorrei mantenere leggero e fruibile e quindi ci fermiamo qui. Io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me. Vi ricordo che se vi interessano questi argomenti il bottone iscriviti è qui sotto quindi vi consiglio di iscrivervi subito attivando anche la campanella e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.